Il vostro scritto mi ha dato nuova forza. Il giorno dopo il blitz di Forza Nuova, con uno striscione provocatorio contro il parroco di Rebbio, il sacerdote ha deciso di rispondere ai militanti del gruppo di estrema destra. Don Ingiusto si occupi di chiesa, non di politica, e il messaggio scritto sullo striscione firmato da Forza Nuova, un attacco alla politica di accoglienza di Don Giusto della Valle e alla sua presa di posizione contro la chiusura del campo di Via Regina. Cari signori di Forza Nuova, perlomeno così vi siete designati, scrive Don Giusto, mi sarebbe piaciuto venire a parlare a casa mia, con tutta calma, in pieno giorno, anziché affiggere nottetempo un vostro cartello sulla recensione dell'oratorio. Comunque, il vostro scritto notturno mi ha dato una nuova forza in due direzioni. Innanzitutto, a lottare contro il male che c'è in me, mi avete chiamato ingiusto e ne sono cosciente. In secondo luogo, continua il parroco, mi sento onorato se voi avete identificato in me una persona della chiesa di Como che fa politica. Vi ringrazio. La chiesa fa politica a cuore la polis e di più fragili della polis. Il regno di Dio, il cui annuncio è al cuore della vita del nostro fondatore, è regno di pace e di giustizia e beati sono coloro che iniziano a costruirlo su questa terra. La lettera si chiude con un ringraziamento. Grazie per avermi ricordato e confermato in questi due obiettivi su cui continuo a lavorare insieme a tantissime persone di Como. E anche il Vescovo ha espresso la sua vicinanza al sacerdote e alla comunità. Ho appreso con rammarico e con un certo stupore la notizia del gesto dimostrativo rivolto a Don Giusto e alla comunità di Rebbio. A loro voglio dire il Vescovo vi è vicino, scrive Monsignor Oscar Cantoni. Come padre e pastore ritengo giusto richiamare a tutti la necessità di recuperare toni sereni e pacati nel dibattito e nel confronto fra idee differenti. La Chiesa, in verità non per scelta politica ma esclusivamente pastorale, nella sua missione a vantaggio di tutti, soprattutto di chi è marginato e solo, deve poter venire incontro a tutte le fragilità, ascoltarle e guidare il popolo di Dio a tradurre il Vangelo mediante scelte coerenti in parole e opere. Sostegno al sacerdote e anche dalla cisle dei laghi. Riteniamo che in questo particolare momento storico ed economico e di grave tensione sociale del Paese il qualunquismo possa alimentare e ingenerare episodi di intolleranza. Grazie a tutti.